Innanzitutto è un onore, e non si poteva esibere, dall'organizzare la Prolo, un concerto con Valtester B. Come diceva prima l'assessore Fabio Franchi, insomma a Valti ha portato il nome di San Giovanni in giro per l'Italia, era giusto fare un grande concerto nella sua San Giovanni. Quindi venite giovedì 14, vi troverete una piazza, ma c'è una piazza straordinaria fatta di tanta musica, perché Valtavuaggi ci sarà Pierrotto e Beatrice Pasquali, ma soprattutto un cast di musicisti veramente di alto livello. E poi da un punto di vista della Prolo stiamo organizzando anche tutta una coreografia di luci nella piazza, quindi sarà tanta bellissima musica, ma sarà anche una piazza coloratissima, quindi sarà sicuramente una serata a non perdere. Ecco, vi aspettiamo tutti giovedì 14, Piazza Masaccio inizio intorno alle 9, 9.30.